ma dai Maria e Tina non può essere per una campagna pubblicitaria delle scarpe no certo che scherzi le scarpe no cosa potrebbe fare Tina poco e niente insomma campagna di una pizza magari di moda o va sulla cosa quella moda che c'è adesso sulle taglie un po' forti perché comunque ha un bel viso e una bella donna come donna non è una brutta donna solo che è un po' se stesse un po' a dieta ma tu scusa ma tu ti sei visto il tuo fisico qual è ma lui fa le foto mica fa il modello ma prima di guardare i difetti dell'altro ma tu ti guardi è il collo del piede che è un po' cicciottello Fabio è il collo che è un po' cicciottello si è un po' il piedino di porco ma dove ce l'ho che c'ho la caviglia che ha detto ma scusa che cioè questo è un collo del piede grosso no ha detto di peggio non l'hai sentito no che ha detto piede di porco ha ha ma se io c'ho la caviglia sottile ma che c***o dici ma che c***o dici un po' cicciotto è un po' cicciotto un po' cicciotto è un po' cicciotto Grazie a tutti.